Il ritorno di Mimmo Delia sul ring e due eventi sportivi di altissimo livello per Francavilla Fontana che diventa il centro della Extreme Fighting Championship per un weekend atteso, preparato e fortemente voluto. Delia Francavillese tra novembre e dicembre, Covid permettendo, combatterà per il titolo mondiale il più importante, il più prestigioso. Ho cominciato così per via del Covid che ho ricominciato ad allenarmi, era l'unico modo per ammazzare il tempo. Ho fatto le due sedute giornaliere e poi man mano sono migliorato fisicamente e mi sento meglio di dieci anni fa. E niente, poi il Presidente mi ha dato l'occasione di fare questo match qui, vediamo come va. Negli studi di Canale 85 le preziosissime cinture che saranno in palio a Francavilla in due giorni imperdibili per gli appassionati di sport da combattimento. Abbiamo un galà che inizierà oggi alle ore 18 e terminerà verso le 21 con l'apporto dell'aiuto del maestro Mimmo Delia. Quindi andremo a fare dei titoli molto importanti, c'è un titolo italiano XFC Juniors, un titolo pro... Poi abbiamo Pascariello che farà un Prestige Fight XFC. Potete vedere abbiamo qui quattro titoli, quattro cinture della XFC, due titoli mondiali, un titolo europeo, un titolo AMT World, sempre XFC. Mimmo combatterà per questa cintura, come potete vedere, e sarà il suo titolo mondiale.